In questo nuovissimo video andremo a parlare sia di capitolo 3 sia di questa stagione perché potrebbe esserci un evento live segreto di cui nessuno vi ha ancora parlato Non perdiamoci in chiacchiere però lasciate subito un bel pollicione in su per altre novità sul capitolo 3, sulle nuove stagioni e tutto quello che c'è da sapere su Fortnite e ovviamente vi ricordo di utilizzare il codice RolloPollo all'interno del negozio oggetti Adesso però è arrivato il momento di tuffarci in partita per parlare di che cosa sta succedendo effettivamente su Fortnite in questo esatto momento Sta succedendo una cosa di cui nessuno ha parlato ragazzi e dico proprio nessuno E ci sono anche tantissime news sul capitolo 3 Non so se parlarvi prima del capitolo 3 oppure della stagione 8 Ma dato che vorrei andare un po' in ordine di tempo inizieremo col parlarvi di un evento live che potrebbe esserci durante questa stagione Poi appunto passeremo alle news sul capitolo 3 Ma adesso iniziamo appunto con queste novità riguardanti questa stagione che stiamo vivendo in questo momento Perché potrebbe esserci qualcosa di assurdo ragazzi e dico assurdo Le news parlano chiaro non ci saranno nuovi aggiornamenti fino alla fine della stagione Questo che cosa vuol dire? Che la Epic non ha praticamente modo di corrompere la mappa in alcun modo E da come sappiamo la regina dei cubi vuole far corrompere la mappa Vuole tutta questa zona corrotta su tutta la mappa Questa cosa però non è ormai più possibile Dato che appunto la Epic ha annunciato che non ci saranno più aggiornamenti fino a fine season Che cosa potremmo vedere quindi? Potremmo vedere una sorta di evento live anche in questa stagione E non sto parlando di un evento live finale ma anche di un evento live a metà stagione Un mini evento in cui la regina dei cubi prende vita, diventa gigante e lancia la corruzione su tutta la mappa Chi gioca da tanto tempo si ricorderà di sicuro che nella stagione 7 del capitolo 1 C'era se non sbaglio il re della tempesta, il re dei ghiacci, non mi ricordo come si chiamava quella roba regà Però era una skin intrappolata in un cerchio, in un globo di luce blu come sta succedendo adesso E quella skin nella stagione 7 del capitolo 1 una volta che è uscita ha sparso tutta la neve sulla mappa Potrebbe succedere anche in questa season che la regina dei cubi diventi gigante e esca da non so dove Esca da qualche parte per lanciare la corruzione su tutta la mappa Secondo me è una roba più che fattibile considerando anche che se non sbaglio ragazzi Adesso vi metto una modalità replay e andiamo ad analizzare insieme In teoria dovrebbero esserci tipo dei colori strani nel mare Della sorta di colore arancione, una roba del genere, un colore abbastanza particolare all'interno dell'acqua Che non è proprio normale, non dovrebbe esserci Ed è proprio da lì che secondo me potrebbe uscire questa regina dei cubi gigante Per andare a corrompere tutta la mappa Dato che appunto non ci saranno aggiornamenti da adesso fino a fine stagione Potrebbe davvero essere così Potrebbe essere come nel capitolo 1 Che appunto questa regina formerà il suo alter ego La sua regina in versione ologramma gigante raga Vi sto mettendo anche delle immagini di come era l'evento nel capitolo 1 della stagione 7 Per chi non se lo ricorda o per chi non l'ha vissuto La situazione è davvero molto simile ragazzi Cioè nel senso vogliono entrambi fare qualcosa sulla mappa Quello del ghiaccio voleva fare tutta la mappa di neve La regina dei cubi la vuole fare corrotta Potrebbe essere che sia davvero così E a breve avremo un mini evento live Sarebbe davvero una figata clamorosa E il fatto che nessuno ne sta parlando praticamente è davvero strano Infatti non lo so raga Secondo me è una coincidenza troppo assurda Sia quella dei riflessi arancione nell'acqua Sia il fatto che come nel capitolo 1 La situazione è molto simile Ma molto molto simile Io però voglio sapere da voi che cosa ne pensate Voglio sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti Mi raccomando ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate Perché tra pochissimo si andrà a parlare anche del capitolo 3 Ma prima continuiamo a parlare un po' di questa season Di quello che sta succedendo e di quello che diventerà Perché probabilmente dopo l'apertura del bunker Dopo che la regina dei cubi si riuscirà a corrompere tutta la mappa La zona centrale dovrebbe diventare una piramide Abbiamo i cubi Ci sarà quasi sicuramente infatti un evento live Un nuovo evento Non quello di cui vi ho parlato adesso Ma un vero e proprio evento finale E anche stavolta non sappiamo se questo evento finale sarà per la season O addirittura per il capitolo Dato che appunto il buco nero Che vi ricordo essere il mezzo per cui la Epic Games finisce le season praticamente È stato aggiornato Quindi sì probabilmente avremo un evento live Non si sa ancora se per un capitolo o se per una stagione Però l'importante è essere sicuri che ce lo avremo Mamma mia ragazzi se sono carico per questa stagione Per questo a fine di capitolo Ormai siamo arrivati veramente agli sgoccioli Io voglio sapere tutte le vostre opinioni E che cosa ne pensate Perché adesso è arrivato il momento di andare a parlare di capitolo 3 Capitolo 3 che ormai a detta di tutti Sembra essere molto ma molto ma molto vicino Gira su internet infatti in questi giorni Uno screen riguardante un operatore Epic Che ha risposto ad un Ad una sorta di aiuto Di richiesta insomma come la chiamate Di assistenza Con un messaggio un po' particolare Infatti se ci fate caso raga Questo messaggio in inglese ve lo traduco al volo Praticamente dice che il capitolo 2 Finirà intorno al 5 dicembre E il 5 dicembre è la data in cui dovrebbe finire questa stagione Quindi se questo operatore per caso Avesse sbagliato a rivelarlo Oppure se ne è dimenticato Oppure non lo so regala ho fatto apposta Non so potrebbe essere anche uno screen fake Potrebbe essere di tutto ragazzi Io però voglio sapere la vostra Voglio sapere secondo voi Questo screen qui Che state vedendo da queste parti Secondo voi è vero Oppure è una trovata di marketing Di qualcuno che Ha fatto finta di sapere Invece no Oh mamma donna mia Regano Oscar Buono Secondo me potrebbe essere Uno screen reale Però non so Se un operatore epic In effetti Potesse scrivere una cosa del genere Così da nulla Scrive così Finisce il capitolo Il 5 dicembre Non so quanto può essere reale Però Tanto vale crederci Io ovviamente ci spero Che questo capitolo Arrivi presto Perché ormai Mi ha davvero stufato Questo capitolo 2 Con le armi tutte uguali Con tutta la mappa uguale E anche perché Ormai Il capitolo 2 Sta durando di più Del capitolo 1 Da qualche giorno Infatti siamo entrati Nel 270 Giorno Tipo una cosa del genere Non so quanti giorni Regà Ma davvero tantissimi Per cui Stiamo giocando Più nel capitolo 2 Che nel capitolo 1 E questa cosa Non è troppo bella Cioè io preferisco Cambiare sinceramente Le cose certe Sono che per adesso Il capitolo 2 Sta durando più Del capitolo 1 Il capitolo 2 È un po' stancato Ci sono tantissime news Per quanto riguarda Il capitolo 3 E sono usciti Tanti leak Per quanto riguarda Appunto lo stesso Capitolo 3 Indizi per cui Potrebbe essere In arrivo E insieme a questi indizi A questi leak Ci sono anche Nuove funzioni Davvero assurde Vi faccio un esempio Scivolare Mentre si spara Ragazzi Come su Call of Duty Per esempio Le nuove costruzioni In arrivo Che sono uscite Nei file di gioco Le mod per le armi Ossia Tutti i vari oggetti Che si possono montare Sulle armi E un sacco Di altre funzioni Del gioco Sono state aggiunte Sono state modificate Sono in lavorazione E questo fa pensare Tutto a un nuovo capitolo Fa pensare Che queste nuove azioni Possano essere aggiunte Direttamente In un nuovo capitolo Comunque la novità Più grande Riguardo il capitolo 3 Non è solamente Quel messaggio Di questo operatore Epic Che se ne esce così Dicendo che il capitolo 3 Arriverà a dicembre Ma è una cosa Di Donald Mustard Dovrebbe essere Tipo una roba Tipo proprietario Della Epic Games Direttore Una cosa del genere Che ha cambiato Il suo banner Su Twitter E il suo nuovo banner È questo qua Così Se ne esce dal nulla C'eravamo tutti Dimenticati del punto zero Avevamo iniziato a concentrarsi Sui cubi E invece lui se ne esce così Mettendo un banner Del punto zero All'interno Di una grotta Sembrerebbe Non ne ho idea ragazzi All'interno Di che cosa è Quel cavolo di punto zero E soprattutto Per quale motivo Adesso A 30 giorni Dalla season Donald Mustard Così se ne esce Con un punto zero E la descrizione È chiamata realtà zero A questo punto Mi viene il dubbio Sta arrivando il capitolo 3 O sta arrivando il capitolo zero Si torna indietro Che succede Raga Davvero Ci sta mettendo Un mistero clamoroso Comunque staremo a vedere Che cosa succederà In realtà zero Potrebbe essere di tutto Potrebbe essere Semplicemente Il nome della nuova season Potrebbe essere Il nome Del nuovo capitolo Potrebbe essere Il nome dell'evento Potrebbe tornare Il punto zero Da un momento all'altro Oppure Dato che il livello Della grotta Si sta abbassando Il punto zero Si trova davvero Dentro la grotta Eh Raga Troppi misteri Davvero Troppi Troppi misteri In questa stagione Io sono sempre più curioso Di scoprire Che cosa succederà Che cosa stanno facendo Questi pazzi Dell'epic Ma non si riesce A capire Praticamente nulla Perché un giorno Compare una regina De cubi Che vuole distruggere La mappa Un giorno Ti ritirano fuori Il punto zero Con jonesi La fondazione I set I razi Il cubo Davvero Raga Non ci sta Cavendo più nulla Oh mio dio Un nemico È il primo nemico Che incontriamo oggi E sta scappando Va bene Oggi i nemici Non mi vogliono Raga praticamente Comunque Di capitolo 3 E di stagione 8 Ne abbiamo parlato Abbastanza Credo per oggi C'è un No è fuori safe Raga volevo farvi vedere Un glitch assurdo In questa zona della mappa Però purtroppo Non riusciamo Ve lo farò vedere Sicuramente In un altro video Quindi tranquilli Vi ricordo di attivare La campanellina Se non volete Perdervi alcun video Iscrivervi al canale E ovviamente Lasciare un pollicione In su a questo video E usare il codice Lollopolo nello shop Facilissimo Mi supporterete al massimo E che cosa sta facendo Questo camion qui Con tutte queste robe aliene Non lo so Davvero raga Dobbiamo mettere in conto Anche gli alieni ancora Perché hanno lasciato Tutte le uova qui Tutte le cose Oddio mio raga Questa season Non finirà più Che dirvi Per oggi Credo sia tutto raga Non Non trovo neanche Nemici Quindi è inutile Anche finire la partita Per veramente Lo trovo più nessuno Ah ecco un nemico Raga dai Fatiamo lui E poi chiudiamo il video Sempre se Riusciamo Intanto Mamma mia Se siamo forti 30 e 44 Vai 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 30 Ok è quasi morto C'è un altro nemico Lì credo Sì infatti Un altro nemico lì Che mi sta Sparando a me Ok 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 Mi sta devastando Copriamoci che è meglio Ok copriamoci Copriamoci un attimo Raga Ricarichiamo Facciamoci un flopperino E spariamo gli adesso 52 Ok Si stava praticamente Suicidando Yes Ucciso Ok vi ho fatto vedere Anche un po' di azione Dai Mamma mia Ma anche lo spasso Raga Buono Prendiamo anche il rampino Facciamo così Oh è bello questo colpo Bello raga Ok No ma come mi ha ucciso lui Ma pensavo di averlo preso per primo Vabbè comunque non ci interessa la partita Eravamo qua per le news E le news ve le ho date come Grazie mille a tutti ragazzoni Per la visione Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Un nuovissimo live È stato un super video Mi raccomando Fatemi sapere cosa ne pensate Di queste due ipotesi Secondo voi Stagione 9 O capitolo 3 Lo scopriremo presto